Ancora sangue sulle strade del Tarantino, questa volta a perdere la vita è stato un pensionato, l'83enne sulla propria bicicletta, a poche centinaia di metri dall'ingresso di Sava, rientrava dopo aver raccolto la frutta a quanto pare. Nel suo stesso senso di marcia, su quella strada che porta a Fragagnano, viaggiava anche un autocompattatore della nettezza urbana che pare averlo investito. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo a causa delle ferite riportate. Stanno curando le indagini in queste ore i carabinieri della stazione locale dopo i rilievi. Il 37enne alla guida del mezzo pesante è stato sottoposto ad esami tossicologici.